Al via i lavori di restauro della fontana artistica, lo spazio dell'acqua e il suo gioco, realizzata dal compianto maestro Ettore Spalletti e del piazzale davanti il Palazzo di Giustizia Pescara. L'intervento è stato reso possibile grazie ad una collaborazione tra enti pubblici e privati. Lo ritengo importante è questo abbinamento col rifacimento della piazza che ormai era deteriorata, i giunti non funzionavano più, bisognava rifarla, abbiamo approfittato del PNRR e con il dirigente amministrativo, la dottoressa Natali, siamo riusciti a portare a compimento anche quest'opera di rifacimento della piazza che va benissimo che sia abbinata con la fontana. Ettore era una persona abbastanza straordinaria, dotata di una sensibilità anche molto alta per l'arte in genere e ovviamente anche per le sue opere, quindi vedere la fontana così lo feriva profondamente perché aveva come l'impressione che la città se ne l'ha voluta dimenticare, non l'aveva accolta, ecco non era stata accolta. Siamo riusciti a arrivare finalmente a iniziare questo restauro, credo che da qualsiasi pianeta lui ci guarda sarebbe molto felice, perché comunque per un artista un'opera è un po' come una parte di sé. Ringraziamo il Presidente Bozza, ringraziamo tutti i privati che hanno operato affinché questa operazione potesse essere portata a termine, adesso l'impresa sta lavorando, correremo affinché possa essere restituita questa fontana, questo gioiello in tempi brevi alla città, abbiamo già aspettato troppo. Questo è un altro pezzo di città che si ricostruisce grazie alla sinergia tra due enti pubblici che sono il Ministero della Giustizia e il Comune di Pescara e tanti privati che hanno collaborato a queste operazioni. Io mi auguro che tante altre operazioni si possano fare con i privati, perché così una città come Pescara cresce con l'operosità di tutti, del pubblico, dei privati, per fare in modo che le grandi opere e arte che abbiamo possano essere recuperate. D'altronde ricordiamo che in questi tre anni Pescara ha aperto tre musei grazie ai privati, ma anche grazie ad un Comune che è sempre molto attivo. Questa è un'altra grande operazione che facciamo e che mettiamo a disposizione di Pescara con i fondi del PNRR, con i fondi del Comune e con i fondi dei privati.